Cari amici, sono Pai. Sapete che ultimamente a Pechino ha nevicato. La neve per una città di Pechino, anche d'inverno, è considerata una cosa molto rara. Quindi voglio condividere con voi questa gioia con questa neve. A proposito, sapete come si dice in cinese? Neve. In cinese si dice sue. Molto semplice, solo una parola. Terzo tono, sue, che vuol dire neve. Ovviamente adesso siamo ancora nel periodo epidemico. Quindi per noi, anche in Cina, nonostante il miglioramento della situazione, è meglio non uscire con l'assemblamento. Quindi speriamo che quest'anno passi definitivamente questo periodo epidemico e usciamo definitivamente di casa. Quando scenderà di nuovo la neve, ci divertiremo per questa neve. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.